Ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostro alcuni prodotti di cancelleria che ho acquistato su Timo. Ero curiosa di testare questo nuovo sito tanto pubblicizzato dove troviamo un'ampissima varietà di prodotti e in questo caso mi sono soffermata in particolare su articoli appunto di cancelleria che riguardano l'organizzazione della scrivania, ho acquistato diverse tipologie di astucci, diverse penne, accessori vari che vi mostrerò appunto in questo video. Non si tratta di una collaborazione, ho effettuato l'ordine tramite l'app che risulta molto semplice e intuitiva e l'ordine impiegato 12 giorni ad arrivare in un unico pacco che potete appunto vedere qui al lato. L'ho già aperto per comodità e ora andiamo a vedere appunto i prodotti che ho acquistato. Il primo prodotto è questo organizzatore da scrivania che nel mio caso appunto diventerà proprio un portapenne, è costituito da 5 scomparti, 3 abbastanza profondi dove ci stanno perfettamente le penne e 2 meno profondi all'interno dei quali possiamo riporre la cancelleria un po' più piccola, è carino appunto il fatto che sia girevole e funziona abbastanza bene questo meccanismo e in più abbiamo un cassettino trasparente. Quindi nel complesso mi sembra un prodotto ben fatto e tra gli organizzatori che ho visto è quello che più si adatta alle mie esigenze. Qui abbiamo un altro organizzatore, questa volta a 3 scomparti, dalla foto sul sito mi piaceva esteticamente ma rispetto al modello precedente non mi ha convinto tanto, la plastica risulta molto leggera, non particolarmente rifinita e il meccanismo che dovrebbe farlo ruotare non funziona perfettamente. Sulla scrivania risulta anche carino da vedere ma non mi ha convinto molto qualitativamente. Questo è l'ultimo organizzatore che vi mostro, è un po' più grande rispetto agli altri e lo avevo inizialmente pensato per la cancelleria ma in realtà lo andrò ad utilizzare per riporre altri oggetti. È costituito da 7 scomparti, 2 laterali più profondi più 4 superiori meno profondi. Inoltre presenta anche un cassettino che comunque nel complesso risulta anche abbastanza capiente, si può completamente estrarre. Era presente anche in diversi colori, quindi nel complesso un prodotto abbastanza carino e ben fatto. Passiamo agli astucci. Il primo che vi mostro è questo astuccio molto semplice realizzato con questa plastica opaca che ci permette di intravedere il contenuto. Alla fine si tratta di una semplice bustina che però può risultare pratica e comoda da portare con sé. Il prossimo astuccio che vi mostro è questo astuccio contenitore, fatto in plastica rigida. È presente in diverse colorazioni e mi aveva particolarmente conquistata vedendolo appunto dal sito. Nel mio ordine mi è arrivato un po' schiacciato e quindi all'inizio appunto non si chiudeva molto bene, ma sono riuscita fortunatamente a rimetterlo in forma. Ha una vaschetta centrale che possiamo rimuovere e che appunto ci permette di dividere l'astuccio in due scomparti. Quindi è un astuccio veramente molto carino all'interno del quale possiamo riporre la cancelleria in modo ordinato e pratico. Passiamo al prossimo astuccio, anche questo disponibile in diversi colori. Avevo visto lo stesso identico modello su Amazon, ma ad un prezzo decisamente più alto. Risulta particolarmente capiente e presenta anche diversi scomparti. Abbiamo una tasca frontale, ovviamente la tasca principale e centrale e poi anche una tasca posteriore. La tasca frontale ha diversi elastici che possiamo andare ad utilizzare e ci permette un accesso diretto allo scomparto principale dell'astuccio e la parte centrale presenta un'apertura rigida che tiene l'astuccio aperto in modo tale che risulti più pratico ed efficace l'accesso al contenuto interno. Anche all'interno troviamo poi due tasche piccole e come potete ben vedere questo astuccio risulta veramente molto ampio. Quindi se cercate un astuccio particolarmente capiente potrebbe essere una soluzione interessante. Questo è l'ultimo astuccio che ho acquistato in questa bella colorazione lilla. Mi piaceva il contrasto con le cerniere appunto di diversa colorazione. È un astuccio a tre scomparti e ho riscontrato solo un piccolo difetto sul gancetto della cerniera anteriore che come potete vedere dall'immagine risulta leggermente rovinato mentre gli altri due sono perfetti. Vi mostro velocemente tre scomparti. Quello anteriore è costituito da questi elastici molto comodi. Poi abbiamo la tasca centrale anche questa abbastanza capiente e poi abbiamo la tasca invece posteriore che a differenza appunto di quella anteriore è costituita da questi taschini all'interno delle quali possiamo riporre altra cancelleria. Quindi nel complesso un astuccio comunque abbastanza compatto però strutturato anche molto bene quindi sicuramente molto comodo. Passiamo ora alle penne. Ho acquistato diversi set di penne da quelle più economiche a quelle più costose. Questo è il set più economico che ho acquistato. Sono delle penne esteticamente molto semplici di plastica. Non abbiamo scritto indicazioni particolari ma la punta comunque dovrebbe essere da 0,5 mm. Hanno tutti il gommino di protezione della punta. Utilizzandole ho notato comunque che presentano un po' di attrito quando andiamo a scrivere. Si sente un po' il graffio sul foglio. Non sono particolarmente confortevoli. In più lo scatto della penna rimane anche abbastanza rigido. Passiamo ad un altro set di penne. Ci sono veramente tantissimi set con tantissime fantasie differenti quindi non è stato neanche facile scegliere. Mi piaceva in particolare questa fantasia e queste gradazioni di colore. In particolare appunto questo set è ispirato un po' al chiaro di luna e abbiamo tutte queste belle sfumature di azzurro chiaro e azzurro più intenso, blu scuro, quindi comunque delle belle colorazioni. Su ogni pene è presente anche appunto un disegno che richiama delle costellazioni, la luna. La punta è una punta da 0,5 mm. In questo caso però si tratta di una punta d'ago. Tirando un po' fuori le pene della confezione si sente un po' un odore diciamo di gomma perché comunque hanno una superficie plastica leggermente gommata. Nel complesso sembrano fatte comunque abbastanza bene ed esteticamente sono veramente comunque molto carine. Ve ne provo una per mostrarvi un po' come scrive e come prima impressione tutto sommato sembrano anche scrivere abbastanza bene. Il tratto risulta abbastanza fluido. Poi le dovrò provare effettivamente per vedere come si comporteranno nel tempo. Passiamo ad un altro set di penne, queste più costose rispetto ai set precedenti. Si tratta delle Kako Green in questa confezione da 5. Ero curiosa di provare dei prodotti di questa azienda perché ne ho sempre sentito parlare abbastanza bene. Purtroppo non ho trovato tanti set a disposizione, però questo in particolare mi ha colpito nella sua semplicità. Sono molto carine esteticamente. Si tratta appunto di queste 5 penne completamente bianche. Solo le estremità risultano colorate con questi colori molto tenui. La cosa interessante appunto di queste penne è che all'interno della confezione troviamo anche degli stickers. Infatti possiamo andare a personalizzare queste penne andando a far aderire questi stickers sul fusto stesso della penna. Anche se sinceramente anche lasciata così tutta bianca la trovo molto elegante e molto carina. La punta come vi dicevo è da 0,5 mm. Si tratta sempre di inchiostro gel e la penna risulta molto scorrevole e confortevole nell'utilizzo. Passiamo ad un altro set di penne. Queste ve le avevo mostrate velocemente anche in uno degli ultimi video short che trovate appunto sul canale e sono queste bellissime penne dedicate appunto a Van Gogh. Mi sono piaciute subito tantissimo ed è stato appunto uno dei primi articoli che ho messo nel carrello. Sono per l'appunto penne dedicate ai dipinti di Van Gogh e come tipologia di penna ricordano molto le Sarasa Clip. Questo set è quello che ho pagato di più tra le penne che ho acquistato. Non vi ho specificato i prezzi dei vari articoli perché variano spesso sul sito quindi non sarebbero molto indicative le cifre che vi potrei dare in questo momento. La prima impressione su queste penne è molto positiva, mi piace molto come scrivono e se vi fa piacere poi vi terrò aggiornati sulle varie tipologie di penne che abbiamo finora provato. Questa è l'ultima penna che vi mostro, mi aveva colpito esteticamente, aveva anche delle recensioni molto positive. Si presenta anche con tre ricariche quindi molto utile appunto la presenza delle ricariche e a differenza di tutte le penne che abbiamo visto finora con punta da 0.5 mm ho voluto provare una penna con un tratto più spesso. Infatti questa è una penna da 1.0 mm. Anche in questo caso mi piace molto come scrive, risulta molto fluida e come potete notare ha un bel tratto spesso. Passiamo ora ad un altro oggetto che apparentemente potrebbe sembrare una penna ma in realtà si tratta di un taglierino di precisione. Presenta una punta molto sottile che ci permette di realizzare dei tagli più precisi soprattutto se dobbiamo ad esempio ritagliare dei contorni. Risulta pratica e sicura anche da inserire all'interno dell'astuccio e in più presenta un cappuccio di protezione in plastica che la rende ulteriormente sicura. Poi ho acquistato un classico taglierino, questa volta a forma di nuvoletta, veramente molto simpatico. Anche questo era presente in diversi colori. Ho provato ad utilizzarlo e taglia veramente molto bene. Poi abbiamo questa pinzetta di precisione molto comoda anche questa. La parte metallo non è rifinita perfettamente ma comunque questo diciamo non influisce sul funzionamento dell'oggetto. Poi abbiamo questo blocchetto di 50 fogli trasparenti che possiamo andare ad utilizzare per scrivere le nostre note. Molto carino anche questo. infine abbiamo due stensori per matita, uno semplice e l'altro doppio. Quindi questo è quello semplice di legno e metallo mentre questo è quello doppio dove appunto possiamo andare a inserire matite di dimensioni differenti. Molto utili perché possiamo andare a sfruttare appieno anche le matite che hanno delle dimensioni molto ridotte. Quindi questi erano tutti gli acquisti. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia fatto compagnia. Se avete delle curiosità scrivetevi pure un commento. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!